Sarà lo stadio Alfredo Cipriani di Raiano ad ospitare le gare casalinghe del Sulmona nella prima parte del prossimo campionato di promozione. Raggiunto oggi l'accordo tra le due società dopo la richiesta presentata dai dirigenti biacorossi per usufruire dell'impianto del Cipriani in attesa della realizzazione del manto sintetico al Pallozzi. Siamo stati disponibili da subito, affermato il vicepresidente del Raiano Daniele Di Bartolo, a concedere l'ospitalità ad una squadra del territorio perché noi siamo sempre aperti alle collaborazioni di questo tipo. L'auspicio del Sulmona Calcio è comunque quello di tornare presto allo stadio Pallozzi. Lo scorso 14 luglio la giunta comunale ha approvato il progetto definitivo ma ora dipenderà dai tempi burocratici stabilire l'inizio e la fine dei lavori. Nel frattempo la struttura di Raiano rappresenterà la giusta location per abituarsi a giocare sul sintetico. Sul fronte squadra il Sulmona Calcio punta sulla linea verde con l'obiettivo di valorizzare i tanti giovani a disposizione. In questa ottica compie un importante salto di qualità Giovanni Federico, esterno basso classe 2000, che dagli allievi dell'Olimpia Cedas sarà aggregato con la prima squadra dei Biancorossi. Si tratta di una responsabilità importante per il baby difensore che si è dichiarato molto entusiasta. Spero di dare il meglio, ha affermato, per ripagare la fiducia che mi è stata data, anche se sono consapevole che sarà un compito molto duro. Ringrazio la società per questa opportunità. Il presidente Pier Giorgio Schiavo fa sapere intanto che l'inizio della preparazione a Pettorano sul Gizio è stata anticipata dal 29 a venerdì 28 luglio. Il giorno 29, essendoci la giostra cavaleresca sostenuto Schiavo, non intendiamo contrapporci, anzi come società vogliamo essere presenti a quest'evento importante dell'estate sulmonese. Per questo cominceremo gli allenamenti il 28 luglio per riprenderli lunedì 31.